Dopo uccisione bisogna farne altre per mantenere la frenesia. Siamo in vantaggio! Apertura! Scopritemi! Apertura! Abbiamo perso il comando! Siamo in vantaggio! Siamo in vantaggio! Bene sia! S.A.T.K.O.M. 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 5 secondi alla detonazione. S.A.T.K.O.M. 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 Stiamo vincendo! SADCOM nemico localizzato! SADCOM pronto! SADCOM alleato attivato! Satellite alleato attivato! Stiamo vincendo! Ora con richiamato! SADCOM alleato neutralizzato! 5 secondi ha redetto l'azione! MISSIONE CONVINTA! Eccellente! MISSIONE CONVINTA! MISSIONE CONVINTA!